Sì, si sembra la solita serata fra lì, si sembra la solita che non sai che tutto il resto non sembra, ma non lo è. Perché la serata fa spazio alla novità, la spianata del Parigi, non sembra, ma non lo è. Grazie a tutti. 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 Ruben che passi a un po' in un po' un po' un po' che stiamo senza i sui Marcos Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.